Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore E spinta della difesa Va a concludere, un gol d'antologia! Che gol fantastico! Atteggiamento positivo in questo secondo tempo, subito gol Un gol bellissimo, attirato da casa sua praticamente Il portiere è stato disturbato dai suoi stessi difensori Forse non ha visto partire il pallone